Siamo alla 33esima Assemblea Nazionale del Lanci, nello stand dell'Agenzia del Demagno. Alle mie spalle vedete la novità per l'Agenzia. Sulla piattaforma Open Demagno, una piattaforma libera, accessibile a tutti, sono da ieri presenti tutti i cantieri che coinvolgono i beni dello Stato, oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chiunque li può vedere, così come può vedere i beni dello Stato, così come sono utilizzati in uso governativo oppure in indisponibilità per il federalismo demaniale, piuttosto che in disponibilità per valorizzazioni. Vi invito a vederli collegandovi al sito dell'Agenzia del Demagno.